La ritualità e l'esecuzione del ballo sono elementi fondamentali e allora in compagnia del gruppo Sottoturino e Oriena accompagnati da Gianpaolo Cappello, Sancho La ritualità e l'esecuzione del ballo La ritualità e l'esecuzione del ballo sono elementi fondamentali La ritualità e l'esecuzione del ballo sono elementi fondamentali La ritualità e l'esecuzione del ballo sono elementi fondamentali Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.